Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2 Ebbene sì, questo video come tutti gli altri episodi di questa serie avrebbe dovuto iniziare così anzi era incominciato così il punto che poi è successo qualcosa di davvero inaspettato che purtroppo quest'oggi mi porta a fare in questa maniera un po' anomala questo nuovo episodio appunto su The Last of Us parte 2 come al mio solito ragazzi mi sono messa a registrare il mio video c'era la mia facecam, c'era il gameplay, tutto meraviglioso, tutto fantastico ok e tra l'altro ragazzi questo episodio era durato anche un pochettino di più perché ero arrivata a registrare la bellezza di 55 minuti di gioco poi ovviamente ragazzi in fase di editing minuto più minuto meno insomma però comunque fra i 45 e i 50 minuti di video ci sarebbero usciti eh sì, ebbene sì la macabra scoperta che ho fatto è arrivata nel momento in cui ho collegato la mia chiavetta USB alla Play perché io registro i gameplay che sto portando attualmente ragazzi sulla PS5 quindi li registro con il registratore diciamo così che c'è proprio nella console quindi di una comodità veramente allucinante questo lo devo ammettere e quindi una volta che ho attaccato la mia chiavetta USB alla PS5 per poter prendere il file di registrazione del gioco mi sono purtroppo accorta che quel file di registrazione del gioco durava soltanto 12 minuti inizialmente non ho creduto tanto ai miei occhi ragazzi dopo tipo film quando ho fatto così ho riguardato la durata di quel file della registrazione del gioco purtroppo mi sono dovuta rendere davvero conto del fatto che durasse soltanto 12 minuti quindi questo che cosa vuol dire ragazzi che per qualche oscuro motivo la Play questa volta ha deciso di interrompere per fatti suoi la registrazione del gioco solo a 12 minuti quindi non è che uno dice ah cavolo ci sono mancati gli ultimi 5 minuti toh gli ultimi 10 minuti toh comunque avrei potuto fare un episodio quasi normale magari appunto avvertendovi del fatto che mancassero gli ultimi 10 minuti invece no la Play ha ben deciso di tirarmi questo colpo basso fermandosi soltanto a 12 minuti di registrazione per cui dopo smadonnamenti vari e dopo aver tirato giù diversi santi dal calendario ho preso chiuso tutto ragazzi per la rabbia ovviamente perché comunque avevo registrato appunto come vi dicevo un'ora di gioco al che mi son detta adesso devo un attimo pensare a cosa fare come posso rimediare eccetera eccetera il problema ragazzi è che ho anche pensato di ricominciare il capitolo ma mi son detta da che momento ricomincia sto capitolo perché raga se veramente fosse ricominciato da parecchio tempo indietro mi son detta che insomma ragazzi mi avrebbe impiegato veramente troppo tempo off camera rigiocarmelo tutto fino al momento in cui appunto dovevo ricominciare questo episodio qua e quindi mi son detta che l'unica soluzione decente era fare un video come quello che sto facendo oggi mi rendo perfettamente conto ragazzi che un'ora di gameplay purtroppo è così andata perduta però ovviamente vi renderete conto che a volte certi problemi tecnici possono accadere possono capitare e quindi sono ragazzi veramente al di là del insomma del mio controllo quindi non ho potuto farci assolutamente niente dalla prossima volta magari mi assicurerò che la play stia continuando a registrare però è stata veramente la prima volta che ho fatto una cosa del genere in tutti gli altri casi ragazzi ho registrato veramente tanti video mai avuto problemi però purtroppo appunto queste cose possono capitare anche se sono veramente spiacevoli e quindi mi son detta allora facciamo così vorrà dire che questo episodio lo racconterò brevemente io ma anche perché ragazzi vi devo raccontare principalmente quello che si vede nelle cutscene cioè il gameplay vero e proprio non ve lo posso raccontare perché alla fin fine si tratta sempre fondamentalmente della stessa cosa cioè Abby che va in giro e quando si ritrova i nemici davanti insomma li deve far fuori eccetera eccetera quindi di quello c'è veramente poco da raccontare però visto che ci sono state insomma due o tre cutscene è bene che io ve le racconti e devo vedere se riesco magari a trovarle da qualche parte per potervele fare almeno vedere intanto che ve le racconto ebbene l'ultima volta ragazzi quindi nello scorso episodio ci eravamo lasciati in un momento di perplessità perché il gioco ci aveva riportato di nuovo nel momento in cui Abby ancora ragazzina scopre che suo padre è stato ucciso quindi con lo stesso e l'antico momento con la sirena la porta che si apre Abby che entra insomma in questo corridoio d'ospedale e quindi l'ultima volta mi son detta ma perché cioè ci riportano qua chissà cioè lo scopriremo soltanto vivendo no quindi Abby arriva nella stanza in quella che era la sala operatoria chiamiamola così solo che invece che ritrovarsi di fronte alla scena reale di quello che è accaduto quindi suo padre morto si ritrova di fronte ai due cadaveri impiccati dei due ragazzi che le avevano intanto salvato la vita e che lei aveva appunto poi lasciato soli poco prima e quindi alla fine lei si sveglia di soprassalto e scopriamo che si trattava soltanto di un sogno si risveglia accanto ad Owen perché ragazzi appunto ci ricordiamo che la volta scorsa alla fine Abby era riuscita ad arrivare all'acquario era riuscita a trovare Owen che si era nascosto nella sua barca e lì in un attimo di follia alla fine si sono lasciati andare alla passione e quindi hanno passato una notte d'amore insieme infatti lei si risveglia a fianco a lui quel sogno mi son detta poi io probabilmente stava a significare che Abby nel profondo magari si sentiva in colpa di aver lasciato soli quei due ragazzi perché comunque una ragazza più grande era gravemente ferita nel senso che il braccio ragazzi l'era stato presa a martellate quindi non era forse neanche capace più di difendere l'altro ragazzino suo fratello più piccolo quindi si trattava di due ragazzi in potenziale pericolo quindi lei probabile si sia sentita in colpa di averli lasciati soli quindi che cosa succede? alla fine Abby si riveste e decide di tornare alla zona dei container dove appunto aveva lasciato i due ragazzi da soli arrivando al container trova due cadaveri due iene che erano state ammazzate quindi nel momento in cui cerca di entrare in questo container il ragazzino quasi le spara dicendo ferma quindi non te muove chiunque tu sia guarda che sto armato ti sparo quindi alla fine Abby si fa riconoscere dice sono io il ragazzino abbassa l'arma al che lei va a vedere come sta la sorella maggiore ovviamente non ci si poteva aspettare fosse in condizioni migliori anzi la sua condizione di salute era ovviamente peggiorata ragazzi e infatti nel momento in cui le guarda il braccio ragazzi è diventata una roba che cioè è veramente davvero è una cazzina di un videogioco ma fa veramente spavento perché perché ovviamente può essere una cosa reale le vede il braccio ragazzi che è veramente rossissimo insomma l'avambraccio veramente rossissimo gonfio al che Abby se la carica insomma in braccio quindi vediamo che alla fine decide di portarli fino all'acquario ergo riescono quindi ad arrivare all'acquario sani e salvi per modo di dire insomma da poco tempo evidentemente era rientrata anche Mel che ci ricordiamo benissimo è un medico quindi è un chirurgo quindi forse per questo che Abby ha pensato di portarli lì che magari poteva fare qualcosa per lei per la ragazza al che alla fine questa poveretta ragazzi viene sdraiata su un tavolo Mel la visita purtroppo dice che per il braccio non c'è più niente da fare ormai è da amputare e se non si amputa potrebbe andare in cancrena e quindi far sì ragazzi che la ragazza ovviamente non sopravviva che la ragazza muoia il problema è che lì all'acquario non hanno gli strumenti adatti per poterla operare mi pare pure giusto hanno soltanto coltelli insomma comunque strumenti che non sono adatti a un'operazione del genere che quindi potrebbero comunque ucciderla nell'intento al che Abby dice guarda comunque qua nelle vicinanze c'è un ospedale magari posso farci un salto mi fai una lista degli oggetti che ti servono e io te li porto il problema ragazzi è che l'ospedale dista due giorni a piedi dall'acquario Abby dice ma me poco importa no nel senso ci vado comunque ma il problema non è per Abby il problema giustamente le fa notare Mel è che la ragazza non sopravvivrebbe due giorni in quelle condizioni molto probabilmente morirebbe prima che lei ritorni all'acquario in quel momento il ragazzino quindi il fratello più piccolo le dice che potrebbe invece farcela arrivare in due ore all'ospedale che ragazzi è una roba assurda perché comunque da due giorni a due ore c'è uno stacco assurdo è questo come il ragazzino svela che le Iene per muoversi da un posto all'altro hanno creato dei ponti che ovviamente fan sì che si possano muovere più in segreto e comunque molto più rapidamente al che ovviamente Abby non ci pensa più su chiede a Mel di farle la lista delle cose che le servono Owen fino all'ultimo momento ragazzi era abbastanza perplesso non era molto favorevole a che Abby andasse fino all'ospedale a recuperare queste cose sinceramente non ho tanto capito il perché fatto sta che nel momento in cui Abby sta per andare via dall'acquario sta per uscire Owen è lì un pochettino del tipo che della notte che abbiamo passato insieme comunque Mel non se ne dovrebbe essere accorta ed Abby fondamentalmente dice a me che cavolo me ne frega che me frega a me adesso resta cosa qua quindi mi è sembrato che Owen fosse più preoccupato del fatto che Abby non spifferasse niente a Mel quindi pure lì ragazzi cioè mi sorgono 3000 dubbi perché cioè alla fine cavolo stavi con Mel è incinta quindi aspetta un bambino tuo però momento di follia vai con Abby e poi però ti preoccupi che Abby non dica niente quindi ti sei pentito di quello che è successo sono situazioni raga abbastanza che mandano in tilta abbastanza in confusione fatto sta che alla fine Abby quindi parte verso l'ospedale appunto con la guida del ragazzino e quindi poi qua fondamentalmente cutscene non ce ne sono state più ragazzi perché è consistito tutto nel appunto dirigersi verso il primo ponte credo che fosse dopo insomma varie peripezie quindi ovviamente con quel percorso non è facile devono attraversare le rapide raga palazzi distrutti devono salire sopra il tetto di un palazzo ovviamente Abby soffre di vertigini e quindi solite cose esplorazione raccogliere insomma varie risorse momenti in cui si trovano infetti ovviamente e quindi alla fine del video insomma dell'episodio che ho registrato sono riusciti a raggiungere questo benedetto primo ponte e poi mi ero fermata nell'esatto momento in cui i due si imbattevano nel primo gruppo di Iene cosa che era abbastanza prevedibile perché ovviamente quelli erano percorsi ragazzi che utilizzano le Iene quindi era super probabile che si trovassero Iene sul nostro cammino e quindi niente alla fine mi son fermata lì so che detto così ragazzi sembra tutto molto riduttivo però appunto dovete considerare che tipo 50 minuti forse di gameplay ero insomma io che andavo avanti proseguivo uccidi i nemici uccidi di qua uccidi di là c'erano stati anche due o tre momenti abbastanza divertenti perché in un momento in cui mi ero ritrovata a dover ammazzare vari infetti essendo sul balcone di un palazzo diciamo così mi era successo un paio di volte di essere una volta buttata giù da un infetto e l'altro paio di volte ragazzi che son caduta io come una polla quindi mi dispiace soltanto che questi momenti non siano stati registrati perché sono stati veramente abbastanza divertenti un pochettino insomma figurare merda però fa niente quindi che dire ragazzi io penso di avervi raccontato tutte le cose fondamentali ovviamente che c'erano da sapere che purtroppo non sono state registrate in ogni caso per il prossimo episodio ragazzi riprenderò quindi a registrare da dove ho lasciato e salvato l'ultima volta quindi ci ritroveremo di fronte ad un gruppo di Iene dovremo insomma cercare ovviamente di farci strada verso questo benedetto ospedale un altro ospedale ragazzi da raggiungere comunque non sarà facile io vi chiedo di nuovo scusa per questo spiacevole inconveniente purtroppo appunto è stata una cosa ragazzi al di fuori del mio controllo io spero ovviamente di cuore che non succeda più però non dovrebbe succedere probabilmente c'è stato un piccolo inghippo intoppo qualcosa insomma fatto sta che come sempre aspetti i vostri pari qua sotto in commento anche se penso che effettivamente non è che ci sia molto da commentare quest'oggi però magari potete esprimere qualche parere riguardo la questione Owen riguardo la questione insomma queste cose qua la cosa che ragazzi mi ha fatto un attimo parlare diciamo così durante l'episodio è che veramente non capisco per quale motivo il gioco sia stato così tanto allungato con questioni che fondamentalmente non sembrano così trascendentali e imprescindibili per quanto riguarda la storia principale nel senso che ad esempio con questa questione dei due ragazzini i ragazzi hanno allungato veramente tantissimo i capitoli dedicati ad Abby quindi è passato veramente tanto tempo dal momento in cui Abby ha fatto irruzione nel teatro ha ammazzato Jesse e ha sottoscacco Tommy ed Ellie cioè è passato veramente tanto tempo ragazzi non mi ricordo manco quanti episodi sono passati quindi quello che mi chiedo è per quale motivo Naughty Dog abbia voluto concentrarsi su cose che sembrano appunto non così fondamentali tipo questa io ho capito quale voleva essere il suo intento il fatto di farci comunque conoscere Abby a fondo farci capire che effettivamente non è il mostro che magari abbiamo conosciuto all'inizio che comunque ha una sensibilità anche lei io ho capito tutto questo ragazzi però secondo me davvero potevano ridurre un pochettino certe questioni quindi volevo anche un vostro parere a riguardo ragazzi quindi magari potete lasciare qualche parere qua sotto in commento riguardo questa storia qua questo video termina qui grazie a tutti un bacione e un abdoscio a tutti ragazzi da giocherina ciao 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 ciao